Il clima alla Verta Brughiere rimane incandescente, non si placano le polemiche tra il Consiglio di quartiere e l'amministrazione comunale. Negli scorsi giorni l'assessore all'ambiente Mattia Corbetta aveva dichiarato alla stampa che aspettava ancora le dimissioni di Antonino Ribellino quando era stato piazzato il Campo Rom in zona alla Verta, pur essendoci parere contrario del Consiglio di quartiere. L'assessore aveva altresì aggiunto che Ribellino in quel caso non avesse protestato perché la decisione era stata presa da un'amministrazione del suo stesso colore politico, come quella guidata da Aide Mellano. L'affondo di Corbetta non è passato inosservato e la replica di Ribellino è piccata. È vero che nel maggio 2013 il Consiglio espresse tutte le sue perplessità in un'assemblea pubblica, ma io non minacciai mai le dimissioni, perché in quella occasione l'interlocutore si presentò e fu disposto al confronto. Inoltre, Ribellino, presidente che si è autosospeso fino a fine giugno, insieme al suo Consiglio, precisa sul posizionamento dell'area ecologica non siamo stati minimamente avvisati, la nostra funzione consultiva è stata calpestata e anche la schermatura dell'area ecologica non risolve il problema delle famiglie che abitano le case circostanti. Il disagio è dovuto ai miasmi dei rifiuti organici e al rumore della movimentazione del vetro. La Jerelle prosegue e quindi diventano quasi inevitabili le dimissioni dell'intero Consiglio di quartiere della Verta Brughiere a fine giugno.